Bentornati su MyFootballJersey, la nuova stagione alle porte e quindi continuiamo a vedere le maglie della stagione che sta per iniziare. Questa ovviamente è la prima maglia del Manchester United in edizione FAN. Alla prossima! Cosa ne pensate? Avevo già visto questa maglia in edizione Player, la trovate qui in alto nella recensione, l'ho ripresa perché è molto bella. Il costo lo vedete? È estremamente basso, vantaggioso per questa maglia e per tutte quelle che trovate sul sito. In descrizione, qui sotto, trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia. Andate a vedere perché c'è anche un link per ottenere un coupon di 3 dollari, quindi il costo che avete visto diventa ancora più vantaggioso. Prima di lasciarvi alla parte finale, se il video vi piace, se il canale vi interessa, mi raccomando iscrivetevi al canale. Questo è l'unico modo che avete per avere sempre nuove recensioni. Per oggi è tutto, ci vediamo alla prossima! Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia media della versione Fan.